La nostra realtà è comunque una piccola e media azienda, siamo in totale 130 persone, però una buona parte viene da questo mondo. La formazione finanziata per noi è un'opportunità, una grande opportunità, sia per far crescere le persone e di conseguenza far crescere l'intera azienda. Crediamo moltissimo in quella che si chiama formazione continua e crediamo che le persone abbiano una maggiore possibilità di vivere bene anche la loro realtà lavorativa se possono crescere all'interno di quella realtà. Ogni persona che cresce attraverso i corsi di formazione fa crescere l'azienda stessa. Il fatto che sia finanziata consente all'azienda di non far gravare il costo della formazione sul bilancio dell'azienda stessa. Abbiamo visto con i nostri occhi che le nostre indicazioni venivano recepite e quindi portavamo sicuramente aiuto ad Elis, ma Elis a noi, dandoci i corsi che ci servivano. Inizialmente abbiamo avuto necessità di inserire persone con un certo skill. Andandoli a cercare sul mercato abbiamo notato che molti di questi ragazzi, soprattutto con le competenze tecniche di un certo livello, venivano da quest'ambiente. Professionalità e organizzazione. Queste due parole distinguono molto bene i corsi organizzati dalla Elis da altre realtà. Si dà molta, molta, molta importanza alle relazioni, alle competenze, ma anche oltre che al saper fare, anche al saper essere.